Chissà se gli dei dei cieli, chiedo, piangono di fronte al grido umano, oppure devono farsi carne per la sé lacrima. La luna è omertuosa, sospesa da un filo sorretto da un'asta a colore dell'oro. Uccelli di argento lunare covono pietre pesanti, dentro nidi in bilico su rami spogli, che, lo sappiamo entrambi, non reggeranno a lungo il peso. Il compimento del sogno, rispondi, le risposte implicite nei segni, si sveleranno altrove, dove non ci è dato di vedere, al chiuso di uno dei tanti appartamenti del palazzo di fronte a casa, quelli con le finestre aperte rivolte a destra, all'arrivo dell'alba, allo svelamento della luce. Grazie.